Qual è l'elemento che l'ha colpita particolarmente di questo rapporto? Questo rapporto mi è molto piaciuto perché è estremamente ricco. La sua suddivisione in 38 schede fa sì che veramente si possano ottenere tante informazioni combinando le diverse schede e i diversi indicatori. Soprattutto mi sembra molto interessante la suddivisione tra creazione, trasferimento ed uso della conoscenza. E poi c'è veramente un gioiello della corona, che è il capitolo quinto, che è un'analisi fondata su dati micro, cioè su dati di impresa, che ci permette di capire una cosa sulla quale fino ad ora si è discusso tantissimo ma per la quale ancora mancava evidenza empirica, e cioè il fatto di quanto sia importante la conoscenza non solo dell'imprenditore ma degli addetti di impresa perché l'impresa possa avere una miglior performance economica.